Musica Ok mamma siamo pronti per andare a sciare C'è un tempo della madonna C'è veramente tempo epico Tempo proprio poderoso Si va a sciare con l'allegria Fa un club the best Ci sono 0 gradi Ci sono 0 gradi Arriviamo alle 9.21 ad Aosta Quindi arriviamo alla 9.30 Saremo su 10 Per le 10 Yeah bel tempo Allora Qui stiamo andando Piano piano Siamo scesi in isolaccia E adesso proviamo a risalire Alle Motte Se riusciamo Così vado a vedere E non usciamo i miei bimbi Ciao Piano piano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti